Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova reaction. Siamo nel bel mezzo del D23, infatti oggi toccava ai panel di Marvel, di Lucasfilm e di 20th Century. Sono finiti da poco i tre panel, adesso il prossimo sarà a mezzanotte e mezza. Io ho occupato questo spazio per fare la reaction ai trailer che sono stati rilasciati e che mi interessano. Sono stati fatti vedere diversi trailer, ma per lo più il 90% di questi trailer li hanno fatti vedere solamente a quelli che erano di presenza al D23. Per noi i comuni mortali invece hanno rilasciato i trailer di Werewolf by Night, lo speciale di Halloween, in uscita su Disney Plus il 7 ottobre, e che hanno confermato ufficialmente per la prima volta qui al D23, non ne avevano mai parlato prima in via ufficiosa, proprio a Marvel Studios che vi infaghi qualcuno non ne aveva mai parlato. E poi è uscito anche il teaser trailer di Secret Invasion. Prima vedremo quello di Werewolf by Night in questo video, mentre prossimamente, penso fra qualche oretta, arriverà anche la reaction al trailer di Secret Invasion. Direi di non perderci in chiacchiere e passare subito alla reaction. Cos'è? Che cos'è? Oh, ok. In bianco e nero, come detto da alcuni rumor. Bellissimo. Bellissimo, come i trailer degli anni 30-40. Aspetta, chi è? Chi è? Chi è questo? Ulisse. Quell'Ulisse. Ci sono pure alcuni tagli così casuali, come nei vecchi film. Bellissimo. Per essere un prodotto che andrà su Disney+, Quello è forse Ramanthin? Sì, si è visto. Oh, ragazzi. Devo dire, vi devo dire. Wow. Wow, wow, wow. Trailer stupendo. L'ho adorato praticamente in tutto. Non mi aspettavo una cosa del genere, anche se dei rumor parlavano di un mediometraggio, 40 minuti. Dovrebbe durare 40 minuti, con questo stile, con uno stile che si rifà molto ai film horror anni 20, 30 e 40. E lo si vede da questo trailer, con tanto di narratore sotto, che spiega tutto, che parla. Ci sono un paio di cose che non ho capito, ma vabbè, comunque è un trailer. Vedremo poi il 7 ottobre, che tra l'altro è domani in pratica. Sono tanto, tanto curioso di scoprire qualcosa in più riguardo questo speciale. Penso non sarà ambientato all'interno dell'MCU. Penso sia una cosa un po' diversa, un po' staccata, anche per lo stile. O magari, sorpresona così, lo stile è solo una cosa che vediamo noi, ma quello che succede, succede realmente nel mondo del... Nell'universo della Marvel. Una cosa è sicura. Non vedo l'ora che sia il 7 ottobre per dare un'occhiata a questo Werewolf by Night. Tra l'altro, dovrebbe essere tutto fatto con effetti speciali. Ragazzi, prima di chiudere vi ricordo che fra poco uscirà anche la reaction a Secret Invasion, che registrerò subito adesso. Fatemi sapere voi con un commento qui sotto cosa ne pensate di questo Werewolf by Night. A me ha stupito tantissimo e non mi sarei aspettato una cosa del genere, l'ho già detto. Praticamente lo dico da tutto il video. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao! Ciao!